Barese, Venom Camp, siamo con Contreras, allenatore degli Scorpion Barese. Coach, come sta il fútbol in Italia? Il fútbol in Italia sta diventando migliore e migliore ogni anno, e campi come questo possono aiutare, ragazzi, a diventare migliore. Quindi sono bellissima, eccetera, 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 eccetera. Ci sono molto buoni, tutta l'inizio per l'inizio, e sono diffuso di un'acqua, quindi ho chiesto di questi campi, ecco che erano più, abbiamo trovato 58 campi, ma vi ho spero di 100, ma questa è un'opportunità per questi campi, che sono molto, molto, molto. E le coaches che siamo inoltre, le shadow coaches, sono loro sposti, molto, molto. quindi è un grande campione per l'italiano football, e l'italiano football è diventando migliorare e migliorare, e questo è un altro passo in questo processo. Sì, questa è una grande opportunità per l'Italia, e è il principio di essere più grande e più grande. Voi è il caso, e ancora, l'altro che mi piace di colazione in Europa in generale, in Italia in particolare, è che le raggiungere non sono per un'accordo scopo, non sono per l'altro che in Italia, ma è qui perché le doне la questione di colazione di colazione, per me come coach, perché hai che si trovano, spiei un'occhino, spiei un'occhino, spiei un'occhino. E lo che si trovano oggi con molti nostri spiei, spiei un'occhino di americano, questi giocatori sono come piccole spongi, vogliono absorber tutto e farlo meglio e ascoltano e come risultato saranno migliori giocatori di giocatori di giocatori di giocatori di giocatori e come per oggi e come per oggi? uno dei nostri problemi è che la maggior parte di noi in Italia solo facciamo 2 giorni, magari 3 giorni a settimana ora avremo 3 giorni in 24 ore quindi potremmo trovare nuove parti del corpo che non avevano mai avuto ma sì, anche per i ragazzi, i ragazzi, i ragazzi, i ragazzi, i ragazzi, i ragazzi, i ragazzi e anche se sei in America, se è il tuo secondo giorno di 2 giorni, è difficile ma non vi faccio, ma dire che ci siamo stati solo in un momento, quindi non in una cosa in un'altra cosa, ma anche perché vogliono imparare, i ragazzi, che vogliono di segnare, e come ragazzi, come si ragazzi, abbiamo capito e non ciò che vi sia un po' che stai così difficile come oggi è stato per questo ma vogliamo essere una buona opportunità che si comprensano e vogliamo dire a loro amici di essere qui questa è una buona esperienza grazie a te è un piacere è un honore per me e per l'Italia e una cosa go Rams no except for a Bersberg for a Bers game ok, ok, that sounds fair ok, ciao 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 ciao